E rieccoci qua dunque con questa nuova edizione di contatto, dunque Silvio Berlusconi a Bruxelles con il papello di idee per recuperare il debito dopo la sonora risata della Merkel e di Sarkozy si presenta con queste proposte tra cui l'inalzamento dell'età pensionabile a 67 anni, perciò una truffa, l'ennesima ai danni di chi onestamente ha lavorato una vita, magari anche sottopagato o ha pagato i contributi, molti, tanti contributi per cercare di avere una pensione degna, almeno per affrontare la propria vecchiaia, invece poi il risultato è che spesso le pensioni nemmeno bastano per vivere, tant'è che moltissimi pensionati sono costretti a fare secondi lavori, magari anche per aiutare i figli che a loro volta sono sfruttati da sfruttatori ovviamente che approfittano dal momento di difficoltà e dunque questa è la presa per i fondelli che avrà ripercussioni negative, lo sappiamo tutti, che è tutta una farsa, tutta una gioppineria, una marionetteria che sta per andare in scena al vertice europeo. Dunque si tratta solo di aspettare, aspettare che il governo cada, sempre che poi sarà nominato, un rimpasto, ci sarà magari Gianni Letta che prenderà il posto di Berlusconi, questo Andreotti dell'epoca di internet che insomma, qualcuno sa come fa a parlare Gianni Letta? Qualcuno ha l'idea di che voce abbia, di cosa dica, cosa pensi? Io ho in mente questa persona lì, questa ombra di Berlusconi sempre silente, mi ricorda molto un po' Cuccia, questi personaggi che amavano molto il silenzio, un po' come Vittorio Mangano, un po' come i vari Dell'Utri, questo silenzio omertoso dove non si capisce, si capisce, insomma, morale, se il governo cade e viene, come dire, nominato qualcun altro non va bene perché Berlusconi è espressione del popolo, hanno votato gli italiani, se invece magari al posto di Berlusconi ci va Gianni Letta, magari invece quello va bene. Comunque staremo a vedere, fatto sta che ovviamente non c'è nulla di nuovo sotto il sole, anzi Sarkozy ha detto addirittura che l'Europa farà boom, rischia l'esplosione, chissà cosa voleva dire con questa frase, l'esplosione, cosa intende per un'Europa che esplode, in che senso? Un Euro che fallisce, Sarkozy non a caso è il numero uno in Francia, che è quello Stato in qualche modo che le cui banche temono, sono creditrici con la Grecia e anche con l'Italia e quindi temono, insomma, un crack, vedono nell'impossibilità del recupero di questo debito da parte sia della Grecia che dell'Italia che non può che portare ovviamente al crack, poi chiama l'esplosione, chiamala guerra, chiamala come vuoi, fatto sta che qualcosa si sta muovendo su questo fronte, di cui Sarkozy che parla di esplosione, non è molto rassicurante. In ogni caso, velocemente, i giornali, oggi era la giornata dell'udienza, del processo che vede imputati l'ex magistrato, nonché parlamentare del PDL, Alfonso Papa, con Luigi Bisignani nell'ambito della cosiddetta P4, loggia P4 è stata così battezzata dai giornali, i magistrati non hanno mai chiamato né P3 né P4, queste presunte associazioni segrete di cui escono centinaia, per non dire migliaia, di intercettazioni, di rapporti che svelano uno stato parallelo, un'organizzazione infiltrata un po' dappertutto, ancora meglio rispetto alla P2 di Licio Gelli, che va in qualche modo a determinare equilibri, fabbrica falsi dossier per poter candidare i propri uomini o le proprie pedine, quindi si dà molto da fare per cercare di orientare i poteri e fare in modo che formalmente, ufficialmente si dica una cosa, ma poi dietro in realtà se ne faccia un'altra. Quindi questo riguarda, ahimè, non solo le istituzioni che sono di fatto del popolo sovrano, ma anche aziende a partecipazione pubblica per assunzioni, per raccomandazioni, per appalti, quindi soldi pubblici. Quindi questi due personaggi, Alfonso Papa e Luigi Bisignani, sono apparsi in aula. Alfonso Papa è in galera, appoggio reale, già dal giugno si è presentato con la barbalunga, ha fatto la sceneggiata con la moglie, l'ha abbracciata e tutto quanto, va bene. Poi umanamente possiamo anche essere comprensivi, potremmo stare qua a discutere sul è giusto o non è giusto mettere in galera una persona. Il problema è quello che è emerso nei confronti di Alfonso Papa, che a quanto pare ricattava imprenditori, dicendo loro che erano sotto indagine fiscale, informazioni che riceveva dai tramiti di Marco Milanese al Ministero dell'Interno e dunque anche dai vertici della Guardia di Finanza. Per un certo periodo si è parlato di un pezzo grosso della finanza che avrebbe passato alcune informazioni a questo Alfonso Papa che lui utilizzava per cercare di estorcere denaro, a quanto pare a questi imprenditori, affinché gli accertamenti fiscali non ci fossero, un po' come per Berlusconi, fu pagando la finanza l'ammorbidimento, o se preferite, si può dire ammorbidimento? Sì, penso di sì, se era tardi sono un po' stanco, comunque per cercare di evitare i controlli fiscali su Fini, verso i bilanci Fini, verso il processo, condanne, con finanza corrotta e sappiamo, poi chiaramente la finanza è un corpo che rispettiamo, sappiamo che come in tutte le realtà ci sono le mele marce purtroppo e anche purtroppo la finanza non è esente da questa malattia. Dunque, in aula questi due, stasera il giornale dice stralciate le posizioni di Pape Bisignani, un titolo così potrebbe far sembrare, chissà, stralciate le posizioni, cosa vuol dire stralciate? Sembra che siano quasi innocenti, quantomeno le loro posizioni si siano ridimensionate, in realtà poi se andiamo a leggere l'articolo troviamo scritto che la posizione di Luigi Bisignani è stata stralciata e gli atti rinviati al GIP per rinnovare il decreto di giudizio immediato, lo hanno stabilito i giudici della prima sezione del Tribunale di Napoli, dopo una breve Camera di Consiglio e in seguito alla eccezione sollevata dall'avvocato Pirolo e relativa alla irregolarità della notifica di udienza al codifensore Fabio Lattanzi. Con l'invio degli atti al GIP si riaprono anche i termini per la richiesta di rito alternativo. Bisignani aveva proposto il patteggiamento presentando due richieste, una per i reati di favoreggiamento per i quali la Procura aveva ottenuto il giudizio immediato, l'altra per l'ipotesi associativa in relazione alla quale pende davanti alla Cassazione. La decisione è sulla visura cautelare. Bisignani non si è presentato in aula, Bisignani è ai domiciliari, quindi ha scelto il patteggiamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo ammette le proprie colpe e quindi facendo questo percorso chiede giudizio immediato, la pena sarà minore e quindi lo stralcio si rende anche a questo punto necessario per poter poi continuare invece col processo che riguarda il coimputato che è Alfonso Papa, di cui leggiamo che il processo per il parlamentare del PDL andrà avanti con giudizio immediato, ma davanti a una diversa composizione collegiale, quindi altri giudici che infatti hanno respinto l'eccezione della difesa di Papa che voleva tenere unite le posizioni dei due imputati, ossia quella di Bisignani e hanno fissato la nuova udienza all'8 novembre davanti al collegio B della prima sezione penale. Il cambio di giudici è stato deciso perché due componenti dell'odierno collegio giudicante avevano avuto nel passato rapporti professionali con lo stesso Papa, totale che c'era una PM donna che rifiutò di giudicare questa persona o comunque di continuare a essere titolare di questa inchiesta, in quanto in passato aveva avuto rapporti diretti con uno degli imputati. Questo è un dettaglio, ci sono altri giudici quindi disponibili e si parla poi dell'abbraccio di Papa con la moglie, momento umano e poi qui in sintesi si chiude quello che ci interessa sapere. Quindi 8 novembre la prossima udienza di questo processo, loggia P4, quindi organizzazione parallela che a quanto pare è una specie di associazione a delinquere che ha cercato di condizionare le istituzioni e anche di estorcere il denaro a cittadini con la promessa che se avessero pagato non avrebbero avuto guai con il fisco, questo è uno dei tanti filoni che i magistrati stanno, anzi hanno già in qualche modo per il quale i magistrati hanno chiesto il rinvio giudizio e dunque conosceremo altri dettagli sicuramente con le prossime udienze. Intanto velocemente gli altri giornali, perché poi alla fine questi argomenti li troviamo della P4 a pagina 17, perché se poi andiamo a vedere c'è magari la Civetta in prima pagina, però poi di Bisignani, che ha ritenuto un pezzo grosso e potente sul Corriere, lo troviamo a pagina 23 dopo che si è parlato della vicenda del motociclista morto, quindi Coriano, quindi il Tg1 e quindi Rai1, servizio pubblico, tutti i pomeriggi interi dedicati al pianisteo di Pagnoncelli, come si chiama il motociclista Marco Ballotelli, il calciatore, insomma avete capito? Dicevo, quello che mi interessa dire è che la Rai si occupa di questo, i giornali in prima pagina, Simoncelli, non ho il suggeritore, devo andare davvero con la memoria, poi la vicenda della Liguria, anche lì voglio dire ok, Pagnisteo, 10 morti, 12 morti, Rio Maggiore, Vernazza, paesi sul mare, 5 terre, zone turistiche, grande pregio, un appartamento, cifre folli perché non si può costruire ma si costruisce, paesini lì che sono stati ricavati sui letti dei torrenti di fatto, perché sono circondati dalle montagne liguri che sovrastano il mare, spazio non ce n'è, per cui è chiaro che se non è oggi è domani, alla prima pioggia potente spazza via tutto, quindi c'era da aspettarselo, no? Che anche lì prima o poi sarebbe arrivata l'alluvione, come è stato l'anno scorso, proprio in questi giorni si parlava di Varazze, vi ricordate? L'anno fa Savona, Varazze alluvionata, stessa situazione, stessa regione, stesso periodo dell'anno, piogge, violente, nubi fragi, no? Che traccimano tutto e i torrenti si ingrossano, grattano e rodono le montagne, trascinano tutto e quindi più scendono più trascinano perché poi più c'è massa e più è peggio e dunque al paese arriva il finimondo, no? Messina due anni fa, ricordate anche lì, alluvione, case costruite sui fondali dei fiumi o molto vicino e quindi grande pioggia via altri morti, quindi l'Italia è un po' tutta così, piani regolatori non studiati, speculazione edilizia come voto di scambio, sindaci che si sono arricchiti o comunque hanno fatto delle loro belle campagne, magari si sono anche guadagnati poi gli scrani in Parlamento a forza di soddisfare le esigenze degli speculatori, no? Quindi in cambio di voti, lottizzazione dei terreni, costruzioni a più non posso, affari e la Liguria purtroppo non è esente da questo problema, da questo inganno che poi pagano i cittadini che ci vivono alla fine, perché alla fine a Rio Maggiore, provate voi a andare a vedere quanto costa un appartamento se riuscite a comprarlo, milioni e oggi dov'è tutto quel valore se oggi Rio Maggiore e Vernazza sono state distrutte da una alluvione, no? Per la mala politica, per il melefreghismo, perché tanto si tira a campare. Dunque, giustamente l'argomento in prima pagina, sui giornali, distrattivo anche quello un po', no? Però il problema sono queste associazioni, questi personaggi che di fatto sono in contatto con le marionette che appaiono nelle TV, che fanno finta di fare i governanti, finta di fare i ministri, finta di mostrare l'autonomia di voto in aula, dietro ci sono questi bisignani, questi piduisti, questi faccendieri, questa gente un po' dedita al malaffare, no? Che alla fine viene scoperta, sempre e quasi per caso, non cambiano mai i nomi, magari si ampliano un po', Grande Oriente d'Italia, la vitola iscritta al Grande Oriente d'Italia, associazione massonica, dunque emerge proprio questa rete massonica di cui fa parte anche Verdini, Denis, indagato anche lui per addirittura, Repubblica dice 11 milioni, il Corriere dice 17 milioni per frode o comunque per aver fatto figurare una cooperativa, il giornale di Toscana che cooperativa non era per ottenere i fondi dell'editoria pubblici, quindi soldi nostri, un'indagine a carico di Verdini, ritenuto lui responsabile di questa presunta truffa, un po' come Ciarrapico, stesso collega di Verdini, padrino del PDL nella Ciociaria, a sua volta editore di piccoli giornali, pluricondannato e pregiudicato, anche lui indagato per truffa di fondi pubblici all'editoria, credo 20 milioni, parlamentari in carica, nessuno che lo ha rimosso e nessuno che sembra reagire di fronte a questo scempio, a questo schifo, alla fine io dico perché parlamentari in carica che votano leggi dovrebbero essere al di sopra di ogni sospetto e sappiamo che Verdini alla fine se la faceva col pituita Carboni per l'affare dell'eolico, usava la sua banca come a quanto pare tramite di tangenti per gli appalti in Sardegna sull'eolico e in parte anche per il G8 e per i grandi eventi, quindi altro che sospetto, c'è qualcuno che si indigna, c'è qualche giornale che batte cassa tutti i giorni e schiaffa in prima pagina sempre queste cose, davvero? C'è qualche TV che ne parla? Purtroppo no, sono tutti argomenti confusi, molti italiani la corruzione la confonde con la concursione, la confonde con reati astrusi di cui non si capisce, però di Sarascazzi sappiamo tutto perché Rai 1 ancora oggi, dicevo, ha concentrato il programma su Simoncelli e quindi anche su Sarascazzi e quindi sull'Aliguria, quindi tenere alta l'attenzione su questi argomenti da pianisteo per non parlare di cose più gravi. Il Corriere, una piccola intesa per l'Europa, scriveva oggi, chi mi vede giovedì ovviamente è ieri, Berlusconi a Bruxelles, nodi bossi sulle pensioni d'anzianità e qua in prima pagina la civetta P4 Bisignani sta trattando il patteggiamento con i PM. Fiorenzo Sarzanini e basta, questo sostanzialmente poi c'è all'interno l'articolo che ne parla, però la gravità di questo sospetto, di questa persona che si scopre essere colui che tiene i fili di tante marionette tra ministri, sottosegretari, la vitola che parla con tutti, con Paolo Masi, con Frattini, con chiunque, con Berlusconi, chi sono questi qua? Cosa vuole la vitola? Chi è? Questo grande oriente d'Italia, cosa c'è dietro? Il formalmente legale, cosa c'è dietro tutta questa tv che parla d'altro? Ecco, e questa è una cosa grave, secondo me, che poi si ripercuote anche nelle piccole questioni politiche locali, perché se poi i comuni non puliscono i fondali dei fiumi, come quanto pare è successo ad Aulla in Toscana, non lo fanno magari un po' per il menefreghismo, magari spesso perché non hanno i soldi, non hanno fondi, perché, 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 arrivi a Roma, arrivi alla corruzione, arrivi allo Stato parallelo che non vuole che si tocchi, che tutto rimanga così, perché cosa? Per tutelare quali poteri, quali interessi? Ecco il grave, secondo me, secondo la modesta posizione di quello che emerge e di quello che dovrebbe quantomeno indurci a pensare. Comunque, libero, l'accordo c'è, il governo non si sa, scriveva, sulle pensioni Berlusconi e Bossi trovano un'intesa, dice Papocchio, che consentirà di sfangarla, ma non per molto, il voto a primavera è sempre più probabile. Questo titolo ovviamente non ha alcun che di vero, perché che accordo c'è? Quale? Pensiamo ai 67 anni? Così pensano di risolvere il problema dell'Italia? Dov'è l'onestà intellettuale, questi giornaletti che finiscono nelle TV? Il secolo XIX, che è un quotidiano ligure, giustamente da risalto all'alluvione alle Cinque Terre, in provincia della Spezia, zona praticamente sfigurata e che sarà dura, farla tornare come prima, il giornale Berlusconi ce la fa ancora, l'esame europeo, oggi il premier a Bruxelles per le riforme, nonostante Tremonti, sul tavolo liberalizzazioni e flessibilità del lavoro, che poi di fatto si traduce in licenziamenti più facili, questo in sintesi è il nocciolo della questione, in pensione dopo, quindi tutti i contribuenti trombati ulteriormente e in più licenziamenti più facili, magari anche senza giusta causa. Comunque Repubblica, che in prima pagina mette in risalto la Liguria e Berlusconi, anche Repubblica parla di La Vitola, parla di Bisegnani, in là, oltre alla pagina 15, ne parla però insomma, perché ne parla così avanti nelle pagine? Vabbè, direi che per oggi è tutto, non ho ancora la connessione in questo locale, la sto aspettando e dopo potrò mostrare più cose, parlando anche meno perché spesso le immagini e le altre persone che coinvolgo dicono spesso cose magari interessanti e dunque per oggi chiudo qui ricordando che il governo potrebbe cadere da un momento all'altro, mentre registro Berlusconi ancora a Bruxelles a fare il buffone, vedremo un po' se domani, dopo domani cadrà il governo, non so, venerdì, lunedì, io non credo che si arriveranno nemmeno a fine anno, questo è l'augurio perché credo che non se ne possa più. Grazie, alla prossima sigla